Ciao a tutti, sono Sara e queste sono le ricette no waste per l'alveare che dice sì. Oggi impareremo a preparare una maschera nutriente per i capelli con le uova in scadenza o scadute da un paio di giorni. Gli ingredienti necessari sono yogurt greco, uova, olio, succo di limone e un olio essenziale a piacere, in questo caso limone. Prendiamo un uomo, lo rompiamo e separiamo gli albumi dai tuorli. Aggiungiamo 3 cucchiaini di olio. Una volta inincenato l'olio aggiungiamo un cucchiaio abbondante di yogurt greco, un po' di succo di limone e lì infine una decina di gocce di olio essenziale. Questo è il risultato, va applicato sulla lunghezza dei capelli, tenuto in posa per 15 minuti. Il risultato sarà una capigliatura nutrita e lucida. Grazie a tutti! Grazie a tutti!